Amici, proseguiamo con Hell e His Other Demons Eh, non è vero Volevo fare giocatore Per tenere gemmi in più, no, guadva Per rimbalzi Ah, ma io non ho i saldi infiniti, però Ma sei matto? Ok Ok Io spero non mi dia No, è impossibile Io volevo dire Spero non mi diava altri nemici Oltre gli scheletrini Ok E io non è che Ok 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 Becchi che becchi che becchi che bella È appena Cominciato il È letteralmente appena cominciato la seconda ondata Eccessivo No, è la terza È la terza Qua Qui c'è pure da Falpoco il La cosa Il Ok La mossa Gli ultimate Lì Il cazzo che è È che Ogni tanto Vola Cazzo Però No È È impossibile È È Assolutamente Impossibile No 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 Si è staccato il pad Proviamoci Eh Ovviamente No Vabbè Asper Non ho perso vita Però Meno male che ho potenziato il salto Eh Che io già sapevo Stai proprio dietro Meno avanti Un livello di merda Come 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 questo No Quindi Ok 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 ho vinto assurdo ora prendiamo questa e ora no eccessivo come uscito vai gioca divisione ah ok sono i nemici della fabbrica praticamente ok 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 merda ne ho beccato eh ogni tanto mi piacerebbe provare sia a fare le le secondarie però credo che soprattutto nei livelli come questo siano impensabili per le mie attuali capacità almeno ok è andato cosa mi dai qui salta da un nemico all'alto il danno inflitto aumenta ogni salto no eh questa secondo me è buona buona bisogna ottenere la minigun in qualche modo aspetta vabbè per ora non lo prendo bisogna ottenere la minigun e qui c'era qualcosa bella vita ancora comprare c'è da qualche parte ecco ps massimi ma anche quello va mi dico sì anche quello va sistemato sono molto curioso di vedere cosa cosa succede ai una volta merda una volta fatti fuori tutti i boss minchia sono già morto 20 secondi per 2 ore vabbè comunque però voglio sono tanto così sapere cosa accade dopo la dopo dopo proprio quella che deve essere la prima fase di gioco ok 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 purtroppo il non prendere danni è andato un po' a pancura però ecco vedo che questo livello adesso non mi tiro i nemici po' lì mi do qua questa è una puttanata completamente va bene ehhh cecchino cosa succede in cecchino cosa succede in questo cosa succede in questo cosa succede in questo ok 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 andato pensavo di metterci qui qui abbiamo i piani allora proseguiamo con grappio fuck non ho contato quanti giorni 2.000 ok ok qui le robe sono un pelino di più eh per cazzo se nemmeno sto a guardare dove cammino puttana eva perchè lo sfondo fa tipo il titolo del danno eh me-me-me ne toglie troppo quindi bisogna assolutamente ehm dove sbucavano? assolutamente bisogna assolutamente potenziare la vita in qualche modo perchè toglie veramente o meglio prendo veramente troppi danni ok migliorerò è tutto però riuscirò cazzo che sto andando saltando adesso mi sembra veramente eccessivo e non è che qui ho banalmente preso andando saltando no ho perso due di vita saltando cioè mi avessi perso semplicemente una ancora ancora ma erano due eppure che non ho lasciato è detta così bella mossa però l'ho utilizzata per sbaglio perchè ho sinceramente convinto del fatto di avere ancora il ma la seconda è fatta anche 15 amici oh molto bene me ne sono appena accorto mi piace la il teammate continua però davvero a preferire il raggio mega fortissimo è anche eh eh ma non capisco cosa mi abbia spinto giù ok sto prendendo pochissimo di arm ok 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 che cosa mi abbia spinto giù cosa cazzo ma vaffanculo con la spina di merda ok non ho capito però che cosa mi abbia fatto inizialmente quei due punti di vita non ne ho saputo più ok che cosa mi abbia spinto giù ok ok non mi è servito ma ok ok ma non ho fatto niente io cos'è? ha tremato la tele però tipo eh vabbè ok 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 va bene ok molto bene ho disintegrato le pistole che ora mi stanno disinterviando stanno disinterviando stanno disinterviando la cazzo di quella è piazza vabbè finta sei dovuto caderci sopra tecnicamente ok oddio vai questo livello è onestamente atroce questo è un livelli bellissimi alti livelli che hanno delle idee di di ehm di design da diciamo da rivedere ecco per essere per essere cordiali tipo questo io io ancora non capisco cosa mi faccia ogni tanto cadere quando sono su quella piattaforma ok per me rimane sinceramente un mistero ok 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 le hitbox però è un minimo Bisogna decisamente prendere qualcosa che mi faccia appigliare almeno dall'ambiente perché è veramente esagerato secondo me Molto bene Molto bene Molto bene Ho sbagliato, non l'avevo dovuto prenderlo Ok 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 Eww Ne manca uno, poi boss Cioè ho solo questa cosa Ho cinque ordate C'è cinque ondate Io non posso manco saltare sopra con i nemici Io ho capito No, è impossibile Allora I nemici che Ah, come cazzo dovevi fare Cos'è, diverse combinazioni di armi e alte Non è il, non sono le armi Il problema, anche se Dovevi comprare delle alte Magari Il problema qua è questo Ovvero Ok 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 E' un incubo E' un incubo Io non so come stavo facendo a fare, cioè... perché... Eh, ho trovato il mio piano, non vuoi, ma... Ok... No, è veramente irribile... Ok... Ok... So... Mazzle... Non vuoi... Ok... Ok... Discreto l'incubo... Il... Luminoso... Ok... 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 Oh... Spike Shining Temple 2... Ok... 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 sennò dovrebbe farmi perdere cuori e basta, cioè, cuori, vita ok 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 ma non lo vedo ok 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 dai ma l'ho sbagliato io ok oh no mi ha fattuto lo sfogo perché non mi aspettavo le spine più madonna di dio ok 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 quindi ogni volta che lui si sistema alto devo rimanere centrale va bene faccio così faccio così non ci vediamo niente faccio così ah ok 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 molto bene merda ho fatto la cazzata ok 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 quanto qua non ci posso far nulla quindi qua posso soltanto ma dov'è? cazzo oh no è finito sullo sfondo quindi ma perché? ma non ho capito ma non ho capito io ho fatto la scivolata verso il via che cazzo uh panculo io stavo facendo le cose nel modo giusto però non mi fa nulla mano ok ok sto Non so perché, quando sono preso, cioè ne sono concentrato altro, utilizzo il pad con un quantitativo di forza assolutamente non necessaria Qui ho avuto una gambetta di culo Ok Io continuavo a toccare... Merda Santa Ok Vedi che però si teletrasporta, quasi Merda Non l'ho visto Cioè io non ho fatto niente, io... Ah, no no, forse sparando Non lo so So che devo prendere poi un attimo una pausa dal suo gioco, finito Eeeh, sto cazzo di boss Mi fa veramente male la vita Perché lo tengo male Quindi Eeeh, ecco io ne ho Ma potrebbe non servire la stigata, eh Potrebbe essere... non necessaria Allora Vediamo un po' Ok Ok Esatto Non è necessario Ok Dato che ho avuto delle difficoltà nel... Non farla Non la faccio Mi sembra... Un'ottima soluzione al problema Ok 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 Merda Ma no Eva Cagliamore Devo tagliare il spontaneo Ma no No I danni ambientali fanno più male delle... I cazzo di nemici Ok Ma no 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 Si Mi sembra Eeeh, non Eeeh, non Eeeh, non Ok 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 Sono molto spesso in silenzio giocando a sto gioco Venendo contro Dio santo Ok 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 Non posso mai cadere nell'ambiente Ok C'è vita che ce l'hai fatta E' l'ascesa sotto lo zero Dio mio Cioè nemmeno mi dà la vita Ho cominciato da loro e nemmeno mi dà la vita Vediamo Madonna di Dio Che sta andando a male Lo sento Ok Madonna si mi fanno male le dito qua Così Quasi Questa l'impare della nuova Ok Questa l'impare della nuova No, io non posso saltare qua, devo cercare di farcela senza saltare, eh se non ballo che è morto. Ho tentato la giocata, ma sì, forse avrete l'ultimo tentativo, però no, voglio fare un altro prima di lasciare questo lì, cioè prima di concludere il video, e mi piacerebbe concludere in realtà questo boss nel video. Quindi, io ci metterò tutto me stesso per far sì che questo gigantesco figlio di puttana muoia il prima possibile. Però è sicuramente il boss che più mi sta dando, ho premuto il tasto, che più mi sta dando problemi. Perché tutti gli altri, alla fine, bene o male, me lo sono calata. Lui è quello decisamente più problematico. Ok. C'è altro per i cazzo di danni ambientali. Sono quelli che mi fottono ogni volta. Mi è fottuta spade di malta. Allora. No, non imparo mai. Ok. Oh. Peso. Ok. Bene. Io faccio avanti. E noi ci fermiamo qui. Ci vediamo nella prossima pa. Ah.